Un piccolo comune ma con un grande senso di solidarietà. L'amministrazione di San Genesio guidata dal sindaco Cristiano Migliavacca darà una mascherina a ciascun residente. La comunità conta in tutto poco meno di 4.000 abitanti ed il primo cittadino è riuscito ad acquistare addirittura 8.000 mascherine. Nella battaglia il coronavirus il territorio della provincia di Pavia lancia dunque una nuova strategia. Il comune di San Genesio ha acquistato le protezioni in Cina, a Shanghai per la precisione, edoterà ogni nucleo familiare delle introvabili mascherine. Mi sono subito attivato con urgenza per trovare le risorse all'interno del bilancio comunale, ha spiegato lo stesso sindaco Migliavacca. Una misura di prevenzione importante, anche se San Genesio è una piccola oasi nel bollettino di guerra della provincia di Pavia. Conta infatti un solo caso di positività di un residente che però non abita più lì da diverso tempo. Ho lavorato ininterrottamente per trovare mascherine da fornire ai miei concittadini, ha aggiunto Migliavacca, grazie alla collaborazione attiva di un nostro concittadino Antonio Biffi e della multinazionale Import-Export Forma Italiana. Le mascherine per il momento sono ferme a malpensa per lo sdoganamento e si pensa che per la prossima settimana saranno disponibili. Toccherà agli amministratori e ai volontari della protezione civile il compito di consegnarle alla cittadinanza.